Capolinea, Newsebedee. Sono tuo zio, Jonathan. Casa dolce casa. Ciao, tu sei Luis, presumo. Le cose sono molto diverse qua. Questo, questo stregato... Qui non c'è niente di pericoloso. Digli la verità. È troppo piccolo e tu sei la strega più brava. Vuoi vedere la vera magia? Ciao, Luis. Il mistero della casa del tempo. Questa sera, 21.10. Rai Movie. Rai Movie. Rai Movie. Rai Movie. Rai Movie.